Le vacanze pasquali verranno forse in aiuto al governo concedendo a Draghi e a Bianchi qualche giorno di tempo in più per decidere il da farsi su aperture e chiusure. Le zone rosse intanto si estendono. A partire da oggi continuano ad essere di questo colore Campania, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, oltre a Calabria, Toscana e Val d'Aosta che erano arancioni fino a ieri. Nella maggior parte delle regioni arancioni oggi e domani e in alcuni casi anche mercoledì infanzia, primarie e secondarie di primo grado faranno lezione in presenza. Resta però il pasticcio del Lazio dove oggi le scuole sono chiuse ma saranno aperte martedì e mercoledì. Insomma la confusione continua a farla da padrone ma dal 7 aprile finite le vacanze si dovrebbe ritornare ad una mezza normalità con lezioni in presenza per tutti i bambini dell'infanzia e per gli alunni di primaria e del primo anno della secondaria di primo grado. Nella secondaria di secondo grado si faranno lezioni in presenza ma solo per una quota giornaliera del 50 o del 75 per cento degli studenti. Diciamo la verità ormai per sapere cosa succede di giorno in giorno nelle scuole di una certa regione o anche di un singolo comune bisogna disporre di un database aggiornato in tempo reale. Lo stesso sito del governo avverte che le informazioni contenute nella pagina fanno riferimento solo alle norme nazionali mentre per conoscere le effettive disposizioni valide nei diversi territori è necessario consultare i siti delle regioni o persino dei singoli comuni. Comunque in settimana il governo dovrà emanare il nuovo DPCM valido dal 6 aprile fino ad inizio maggio. Va segnalata qualche buona notizia. Sono già in arrivo nelle scuole i fondi stanziati con il decreto legge 41, il cosiddetto decreto sostegni. Una fetta importante di 150 milioni di euro riguarda non solo l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, ma anche l'acquisizione di specifici servizi professionali per il supporto e per l'assistenza psicologica e pedagogica rivolti a docenti e alunni. Il fondo potrà essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali. C'è anche una seconda quota, anche questa, di 150 milioni di euro che potrà essere utilizzata per organizzare attività educative, ricreative, ludiche che possano servire a recuperare anche durante il periodo estivo la perdita di apprendimenti e socialità provocata dalla mancata frequenza in presenza. Sono risorse importanti che potranno sostenere le scuole in questa fase difficile e complicata. Il tema ovviamente è di grande interesse, quindi continueremo ad occuparcene, è un tema di grande attualità, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, le vostre lettere e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie.